Diciamoci subito, facciamo la finita con questa storia che i bambini sono i cittadini di domani. I bambini dicono oggi, sono cittadini di oggi, anche loro, che in questa convenzione così importante c'è scritto che il diritto dei bambini è un diritto prevalente, perché facciamo dei regolamenti di condominio in cui scriviamo che è vietato di giocare nelle aree condominali. L'articolo 31 della Convenzione dei diritti dei minori, così si chiama, dice che c'è il diritto al gioco, vuol dire che vince l'articolo 31 della Convenzione, che me lo puoi vietare in un certo posto, ma mi devi dare un altro per giocare, perché se no vai. Signori architetti che fate progetti di casi, palazzi, di tori e terrazzi, un poco di prato, l'avete lasciato? Su, siate gentili, fate anche i cortili, pensateci un poco ai campi da gioco, lasciateci appena lo spazio, che poi a far l'altarena, pensiamo da noi, sarà cura nostra farci anche la giostra.